Ciao, sono Ivan Venturi, faccio videogiochi da 40 anni, ho diverse produzioni in corso con alcune società, sono coordinatore della Bologna Game Farm e basta. Allora, i videogiochi mobile, tradizionalmente in Italia li facciamo poco, peccato perché l'industria del videogioco mobile rappresenta il 60% del fatturato mondiale dei videogiochi, che l'anno scorso erano 223 miliardi di euro, perché abbiamo necessità come industria di formare dei producer che abbiano le idee chiare su quello che significa produrre un videogioco mobile. Quindi questo corso nasce con quell'obiettivo di concentrarsi su questo tipo di prodotto specifico, Anche il Project Work sarà concretamente lo sviluppo di un'applicazione videoludica mobile. E tutti i docenti, sono tutte persone che vengono dal mondo dei videogiochi con esperienze specifiche nel mondo mobile. Le iscrizioni per il corso sono già aperte e si concludono il lunedì 14 maggio. Quindi se siete interessati o interessati iscrivetevi al più presto.